Continuano le truffe online, soprattutto quelle attraverso gli sms del proprio smartphone. Sarà sicuramente arrivato anche a voi un messaggio come questo per informarvi che nessuno vi ha trovati in casa e che il pacco è stato trattenuto o che la vostra banca ha dei problemi tecnici, tanto da cliccare un link per aggiornare i propri dati personali. Sono le famose tecniche chiamate phishing, o meglio, vere e proprie truffe atte a rubare i dati personali e quelli bancari. In caso di dubbio accertarsi sin da subito con la propria banca o filiale prima di compiere qualsiasi operazione. Attenzione dunque a non aprire questi messaggi né tantomeno a questi link. Alcuni cellulari di ultima generazione segnalano questi sms come spam ma altri no e quindi l'allerta per non cappare in queste truffe deve essere sempre alta. Un fenomeno in crescita registrato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni delle Marche. Nella nostra regione sono oltre 35 i casi trattati di furto di credenziali per accesso a sistemi di home banking, di numeri di carte di credito o di chiavi private. Grazie al lavoro degli uomini in divisa sono state denunciate all'autorità giudiziaria ben quattro persone. Altro campanello d'allarme sono gli acquisti sul web e sulle piattaforme social. Controllare sempre bene le offerte troppo convenienti e la provenienza, confrontare le diverse proposte dei siti reali e controllare chi vende il prodotto, che sia un apparecchio elettronico o addirittura un mezzo. La Polizia Postale invita sempre a segnalare questi episodi al fine di contrastare il fenomeno. Inoltre, durante il bilancio annuale, la squadra di contrasto alla pedopornografia ha monitorato ben 126 spazi web, rilevandone 36 con contenuti illeciti. Nel corso delle 23 perquisizioni sono stati sequestrati oltre 10.000 gigabyte di supporti informatici. Le indagini hanno portato all'arresto di una persona e alla denuncia di altri 30. 202 invece i casi registrati di reati contro le persone sempre sul web, 201 i soggetti denunciati in stato di libertà. Infine, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ad attacchi e minacce web, sono stati gestiti 9 attacchi informatici. Infine, si sono registrati nel 2021 ben 70 attacchi informatici ai sistemi finanziari per un ammontare complessivo di oltre 360.000 euro sottratti illecitamente mediante complesse frodi telematiche, 90.000 euro dei quali recuperati a seguito dell'attivazione tempestiva della Polizia Postale e delle comunicazioni.